Siamo arrivati all'ultima tappa del Tennis Tour 2021 all'Ovo Abruzzo che con il patrocinio della regione ha consentito a atleti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo di conoscere il nostro territorio e ovviamente di partecipare a tutte le tappe tennistiche che ne sono state ben 13. Da maggio si è partiti con la tappa dell'Aquila per terminare qui a Pescara. Tappa questa finale con giocatori provenienti da tutto il mondo, nutrita la partecipazione di giocatori italiani e francesi. Si andrà a chiudere la manifestazione Tennis Tour 2021 all'Ovo Abruzzo la prossima domenica con la finale all'ore 17.